Osserviamo un minuto di silenzio in memoria del Magistrato Giovanni Falcone. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti, mille e due. Astenuti, nessuno. Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, 508. Hanno ottenuto voti. Guarda Andreotti adesso. Scaffaro, 672. Ma guardalo bene. È il momento che aspetta da tutta la vita. Siga, 63. Volponi, 50. Valiani, 36. Forlani e Spadolini, 7. Andreotti e Vassalli, 6. Conso e Iotti, 4. Bossi e Scalfari, 3. Guido, 40. 2. Voti dispersi, 15. Schede bianche, 38. Schede nulle, 11. Proclame eletto. Presidente della Repubblica, il deputato Oscar Luigi Scalfaro. Guarda qualcuno. Guarda e impara come si sta il mondo. Buongiorno. Grazie. Grazie. Grazie.